Eccoci qui cari amici di Viene a Vivere all'estero, buonasera e benvenuti, siamo qui a caldo, ho ancora qui le immagini di Luca sullo schermo, il filmato che si sta caricando dalla registrazione, quindi commenti al caldo a tutta questa bella energia, bella calica che ci ha portato Luca. Sicuramente cosa numero uno che mi porta a casa, distruggere i paradigmi mentali limitanti, perché se una persona che mi dice io non sono portato quelle lingue e grazie alla costanza di ogni giorno andare a battere sul ferro caldo si arriva a imparare queste lingue per me aliene, fatte di ideogrammi, significa che tutto il resto si può fare. E quindi qui mi viene un pochino da tirare le orecchie a chi viene in Irlanda, ce ne sono di ragazzi che vengono qua in Irlanda, e poi voi per pigrizia, voi perché hanno deciso che è così, non riescono poi a imparare l'inglese, non ci riescono perché dicono che non è nelle loro corde, è più bello magari lo spagnolo, il portoghese o altro, e questo è un vero peccaso perché l'inglese è una lingua che non ha tutte queste mega complicazioni degli ideogrammi, che stiavi dicendo. Quindi ragazzi, se si possono imparare queste lingue più complesse, come dice Luca, pur non avendo talento o né una memoria particolare, davvero si possono fare tante altre belle cose con le altre lingue, quindi davvero non facciamoci fermare dalle lingue. E poi c'è da ricordare che, come ha fatto lui, ci si può andare a spingere in contesti nuovi, vedere come va, e da lì poi, come ha fatto lui, magari inserendosi in una famiglia, andando subito a cercare l'imprenditore che è in noi, vedere se, anziché cercare lavoro, se riusciamo noi a trovare la maniera di aprire qualcosa, quindi lui ha trovato terreno fertile, spiegando l'italiano ai giapponesi, e quindi sicuramente ci sono un sacco di belle cose che si possono fare. Lui ha scelto la grande città e quindi sulla grande città c'è da ricordare che ci sono, così, a livello culturale più possibilità. Quindi dopo queste interviste così cariche, così ricche di spunti, mi viene sempre a dire, sky is the limit ragazzi, quindi non limitiamoci nel pensare, quindi siamo in un'epoca in cui ci sono altre persone che ci hanno aperto la via, ci spiegano la maniera come hanno fatto, quindi perché no? Quindi ragazzi, spero che l'intervista vi sia piaciuta, vi abbia dato spunti nuovi per spremere la mente, aprirla bene, per imparare tante cose nuove, e noi ci vediamo in uno dei prossimi video. A presto, ciao!